Tre nodi da sciogliere a Pescara c'è l'area di risulta e il palazzo della regione. Che non va collocato lì, lo ribadisce Luciano D'Alfonso, deputato DEM, con la sempre più chiara vocazione ad amministrare, soprattutto in seguito a incidenti poco diplomatici come il bando del comune di Pescara, andato a vuoto proprio su quell'area nevralgica. Un sintomo chiaro, secondo D'Alfonso, è la soluzione tampone del progetto di realizzazione della sede regionale, rinominato Ballon d'Essè, proprio lì dove potrebbe nascere l'area verde, il centro culturale dei pescaresi, è più di un sintomo che per il deputato DEM pare insopportabile. Non sanno come procedere, che cosa devono fare e in alternativa si è messo in piedi una specie di fenomeno da baraccone, di spettacolo, per cercare di far vedere che si fa qualcosa, da una parte a qualche metro quadrato di impiego amministrativo per la bonifica nelle aree di risulta e dall'altra parte una procedura che vorrebbe portare nelle aree di risulta il Palazzo della Regione. Non si farà nell'uno e nell'altro. Per il Palazzo della Regione vanno trovate le risorse finanziarie e ci vuole qualcuno che ci lavori, sapendo che in questo tempo, 240 giorni, la Regione ha in pancia 3 miliardi di euro, così come sulle aree di risulta, tornando all'origine dell'impostazione, 80 mila metri quadrati di verde come giacimento ambientale non solo per la città. I tempi e le risorse al centro è poi un progetto chiaro perché amministrare vuol dire raggiungere traguardi ed Alfonso ribadisce la necessità di eliminare i falsi impedimenti. Ci vuole una struttura dedicata, si dedichi per fare in modo che possa partire un cantiere resistente, di qualità, coerente con la previsione al futuro della città e della città nella Regione. Io mi aspetto che su questi grandi obiettivi nasca la cultura del patto tra maggioranza e opposizione, perché poi i compiti e le funzioni possono cambiare grazie alla democrazia col passaggio delle consigliature. Si faccia un patto, palazzo della Regione e aree di risulta, collaborando tutti, evitando lo sciocchezzare di immaginazioni progettuali che non hanno nessun destino. Il palazzo della Regione non può andare nelle aree di risulta, tant'è che non si è fatto un passo avanti. E sulle aree di risulta ci vorrebbe la stessa determinazione che si è messa da parte della Regione per portare il Napoli a Castel di Sangro. Ecco, io quella dedizione la vorrei vedere ogni volta su obiettivi di serietà e produttivi.